Qualcuno diceva, se l'uomo fosse eterno, probabilmente non creerebbe nulla. Provate a pensarci, James Dean, tanto per prendere qualcuno non c'entra niente con la scienza, diceva, è importantissimo vivere come se fosse l'ultimo dei tuoi giorni, perché a quel punto hai l'intensità, e immaginare come se tu fossi eterno, perché a quel punto hai la grandezza. Non importa se tu vivi un giorno, una settimana, come una farfalla. La farfalla vive una settimana, tutta quella fatica, il baco, tutto quello che è, il bruco, per poi emettere un essere meraviglioso, quei colori meravigliosi che vola, e poi una settimana dopo è morto. Non diceva, ma che senso ha? Ma non importa il tempo, usciamo dall'illusione del tempo. Ha creato bellezza, per quel momento ha messo fuori dal grande mare dell'energia una nota, un colore, una forma, solo quella, non ce ne sarà più un'altra. Ce ne saranno altre, ma non quella. E quella è la bellezza, è il senso di fare una cosa apparentemente senza senso.